Si parla di casa di comunità e ospedale di comunità a Valenza, il sindaco Maurizio Donne, siamo a che punto? Alle battute finali, abbiamo conferenza stampa oggi di presentazione e poi dopo questo ancora piccole cose burocratiche, cioè burocratiche da ufficio e poi dopo il cantiere può partire. E quindi vi siete tratti dei tempi? I tempi del PNR sono quelli entro il 26, però credo che la volontà di tutti sia di terminare molto prima. Uniter che va avanti da un po', se ne parla un po' di tempo? Se ne parla un po' di tempo e se ne continua a parlare, diciamo dal settembre-ottobre 2020 massimo, quindi il tempo all'ora delle elezioni, le candidature delle elezioni alle amministrative, i tempi sono lunghi perché c'era un passaggio da fare sull'ex Mauriziano che poi riguardava fondazione e non era possibile percorrere quella strada. As, l'amministrazione e la regione si sono messe poi insieme a lavorare insieme per costruire questo progetto.